ti piacerebbe fare il pilota? ti piacerebbe fare il pilota di formula 1? ecco se qualcuno magari ti vede dice madonna questo bambino quanto è bravo e magari dice investiamo su questo bambino gli facciamo un bel kart fammi un po' vedere dice vediamo come sa fare vai vai molto bene non ti sa mai vai vediamo se mi prendi anzi io ti prendo guarda guarda guarda